Partiranno a breve i lavori per il restauro delle quattro facciate del cortile interno della villa Medice alla Magia di Quarrata. Il contratto con l'azienda che si è aggiudicata, il bando di gara è già stato firmato in forma all'amministrazione comunale proprietaria dell'immobile, ma trattandosi prevalentemente di opere su intonaci, i lavori saranno eseguiti in aprile, quando le temperature e le condizioni meteo saranno favorevoli a questo tipo di lavorazioni. L'intervento migliorerà l'aspetto estetico e funzionale delle facciate interne della villa e le ricondurrà alla situazione originaria. Si interverrà sugli intonaci, gli infissi, le modanature e gli elementi di decoro, sia in muratura che in pietra, e sul sistema di scarico delle acque piovane. L'intervento si spiega a un costo complessivo di 268 mila euro, di cui 209 mila 631 finanziati dalla regione toscana. Il comune di Quarrata ha infatti partecipato al bando regionale interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani, collocandosi al primo posto in graduatoria su 32 progetti ammessi e ottenendo dunque il finanziamento. Con questo ulteriore intervento sarà completato il recupero di tutte le facciate della dimora Medicea dopo la ristrutturazione del perimetro esterno conclusa due anni fa. Tutti gli interventi sono stati progettati e seguiti dal Servizio Lavori Pubblici del Comune.